Teleromagna La situazione migliorerà a partire dall'Emilia nel corso della notte La giornata di domenica inizierà con molta nuvolosità Quindi cieli per lo più grigi su Emilia orientale e la Romagna Le schiarite avanzeranno dai settori occidentali Per poi interessare anche Emilia orientale e la Romagna nel corso del pomeriggio Quando però nuovi rovesci potrebbero colpire l'Apennino emiliano centro orientale Per quanto riguarda le temperature avremo valori minimi compresi tra 9 e 13 gradi I valori massimi saranno compresi tra 16 e più 20 gradi Ventilazione in rinforzo sul mare che si presenterà mosso soprattutto in mattinata Poi la giornata di lunedì inizierà con il sole ma nuovi rovesci si potrebbero formare nel pomeriggio Per ora è tutto, buona serata ad Andrea Raggini